Hanno messo letteralmente a soccuadro il capannone in cui si sono intrufolati durante la notte forzando uno degli ingressi per poi trafugare una quantità ancora da accertare di cavi in rame. E' accaduto tra le ore 20 di ieri e le 7 di questa mattina. I gnoti hanno preso di mira la segheria dei fratelli Peluso, sita lungo la strada statale 115 Comiso Vittoria, al chilometro 300 più 800. Sul posto gli agenti del commissariato di Vittoria e la sezione scientifica per accertare quanto accaduto nella segheria di Marmi e i danni causati dai malviventi che per entrare nella struttura hanno divelto la porta di ingresso in ferro. Sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza della tenenza di Vittoria. Questa non è la prima volta che i gnoti causano danni ingenti in strutture di vario tipo per rubare cavi di rame in corso e indagini a tutto campo.